Il barbiere di Siviglia atterrerà in Cina. L'esportazione della celebre opera di Rossini toccherà l'altra faccia della terra grazie alla lunga tournée dell'orchestra Raffaello di Pesaro che dal 24 luglio all'11 settembre sarà sul palco dei 27 teatri cinesi più importanti. Il direttore Stefano Bartolucci e l'artista Giuliano Ferri rappresenteranno la famosa opera del compositore pesarese realizzandola in forma scenica, avvalendosi dei dipinti e filmati proiettati. Sono così onorato di portare questa orchestra insieme a un cast di cantanti di grande livello in giro per tutta la Cina per questo progetto di barbiere di Siviglia in 27 città della Cina città anche molto grandi come Chung Ching, la città più grande del mondo, Shanghai, Hong Kong, Canton e tantissime altre. Questi teatri molto grandi e molto belli che devono soddisfare la grandissima richiesta da parte del pubblico cinese di musica italiana, di cultura italiana. Quindi mi dicono che i teatri sono sempre pieni e quindi sarà una bellissima esperienza poter portare questo orgoglio italiano rappresentato dal grandissimo Rossini in giro per questi grandi teatri. Sarà molto bello anche avvalerci delle scenografie proiettate composte da Giuliano Ferri, anche lui un pesarese doc, che è il regista e ha fatto appunto queste scenografie da proiettare nel fondale perché chiaramente spostandoci in 27 teatri a grandissima distanza uno dall'altro e non potevamo avere delle scenografie massicce, delle scenografie da spostare con camion o con mezzi pesanti. Ci sono spettacoli di distanza di due giorni tra città, 2000 km una dall'altra e quindi non potevamo spostare le scenografie con dei camion o con dei mezzi fisici. Per cui si è optato di fare queste proiezioni bellissime che Giuliano Ferri ha composto per l'occasione delle proiezioni in movimento che accompagneranno con un lieve movimento per non catturare troppo l'attenzione degli spettatori per non togliere l'attenzione dai cantanti, però un lieve movimento continuo che cercherà sempre di evidenziare l'atmosfera del momento in quell'opera.